Gli ammalati assolutamente non vanno in ferie e hanno necessità assolutamente del nostro sangue e del sangue dei nostri donatori. Però vorrei fare un invito anche per la donazione del plasma. Con l'arrivo dell'estate si intensificano gli appelli per compensare la carenza di sangue. Cresce nei mesi estivi il fabbisogno, mentre calano le donazioni quando la gente è in ferie. A servire è in particolare il plasma. Il Veneto ha raggiunto l'autosufficienza, ma a livello nazionale no. Lo dobbiamo diventare. È fondamentale la donazione del plasma assolutamente, perché con il plasma si fanno gli emoderivati che servono come salva vita, medicinale salva vita. Di conseguenza l'invito forte che voglio fare, non solo d'estate ma anche nel proseguo, doniamo il sangue ma doniamo anche il plasma. L'Avis è impegnato in una campagna di sensibilizzazione alla donazione rivolta soprattutto ai giovani. Diventare donatore è semplice ed il contributo di tutti è importante. I requisiti sono quelli perlomeno di aver compiuto 18 anni e di pesare almeno 50 kg. Poi possono andare nei centri trasfusionali, fare una visita dicendo che vogliono diventare donatori, fanno una visita con il medico, una compilazione di un questionario e poi ci sarà un piccolo prelievo per vedere l'idoneità del donatore. Non è una cosa difficile da farsi, lo possono fare nei centri trasfusionali di tutto il Veneto e lo possono fare anche nelle articolazioni organizzative, vale a dire la raccolta associativa di Avis che si fa a Venezia, Padova e Treviso.